dopo il video di ieri con bitcoin grande occasione di buy in effetti c'è stato un bel rialzo del prezzo registravo questo video quando bitcoin stava a 38.400 dollari e stamattina come vedi il prezzo di bitcoin è arrivato a 39.600 dollari con addirittura un picco a 41.665 dollari addirittura ha fatto un discreto più 8.62% ma questo è il piano bullish per bitcoin guardiamo i grafici e volevo fare una precisazione l'obiettivo di questo video è fare una precisazione anche il piano bearish perché dal punto di vista del trading bisogna essere pronti sia quando il prezzo va su che quando il prezzo va giù e intervenire avere un piano e inoltre anche quando il prezzo lateralizza e spesso il miglior trade è non fare trade quando il prezzo lateralizza oppure concentrarsi su time frame più bassi beh la precisazione che ci tengo a fare poi guardiamo anche si hunter infinity e sniper i nostri indicatori riservati che mi chiedete sempre ma purtroppo anche per correttezza apriamo sempre solo uno massimo due posti al mese e i prossimi posti sono aperti quindi se sei interessato scrivimi un'email vediamo però questa precisazione allora abbiamo detto che in genere quando sul time frame due giorni il prezzo sta sotto questa linea rossa abbiamo visto che spesso e volentieri è un'eccellente occasione buy perfetto è stata anche ieri un'eccellente occasione buy personalmente personalmente ho preso profitto per vari motivi per il trade a breve termine per il trade a lungo termine ti ho spiegato che sto facendo dca dollar cost average non sono consigli finanziari ma è quello che sto facendo ma volevo fare questa precisazione e ci tengo a sapere anche il tuo parere scrivimi lasciami un commento qua sotto andiamo indietro nel tempo con la nostra macchina del tempo come puoi vedere spesso e volentieri il prezzo ha rimbalzato su questa linea rossa ha trovato supporto ma quando la rompe poi crolla drasticamente che cosa è successo le altre volte? ovvero qua durante il covid crash cioè marzo 2020 come vedi ha trovato supporto questo lo abbiamo detto anche nel video di ieri ha trovato supporto parecchie volte una, due, tre volte quattro volte supporto e poi ha crollato crollato di quanto? ok? dalla linea rossa quello che è l'obiettivo di questo video di oggi quindi anche il piano bearish e ci tengo a sapere il tuo punto di vista lasciami un commento qua sotto quanto era crollato l'ultima volta? era crollato il prezzo di circa il 50% esattamente il meno 51% ok? quando ha trafitto quindi quando non ha retto la linea rossa ok? non ha affatto supporto ma l'ha trafitta questo durante il covid crash e invece le altre volte durante il bear market andiamo a dare un'occhiata quanto il prezzo ha oltrepassato la linea rossa? addirittura a occhio e croce un meno 59-60% quindi stiamo intorno tra il meno 50% e il meno 60% arrotondiamo ok? una volta meno 51 una volta meno 59-89 quindi facciamo tra un meno 50% e un meno 60% bene Leo direi ma allora che cosa vuoi dire con questo video di oggi? ti voglio dire questo che se consideriamo e da qui l'idea del piano bearish cioè prima dammi grafici e poi ti dico le notizie adesso osserviamo il grafico quanto stiamo grosso modo un meno 50-60% dalla linea rossa da quando vedi il prezzo qua ha trafitto la linea rossa fino ad ora abbiamo fatto circa un meno 27% e quello che riflettevo anche ieri nei nostri gruppi riservati di trading con il pacchetto incluso con gli indicatori in genere apriamo sempre solo uno massimo due posti ogni mese quello che riflettevo ieri è che servirebbe anche dal punto di vista di analisi fondamentale del mercato in genere come funziona serve una grande spazzata via del mercato un'enorme paura ovvero la sensazione di quando uno dice cazzarola ho perso tutto basta queste cripto sono una truffa bitcoin andrà a zero e via dicendo l'ho sentito tante volte negli anni queste frasi e non ti nascondo che la prima volta che l'ho sentito ci credevo e mi reputavo disperato dico cazzo ho perso cavolo ho perso tutto qua e poi ho studiato mi sono rimboccato le maniche e ho imparato anche a gestire le emozioni beh quindi il piano bearish qual è andiamo a calcolarci dalla linea rossa prendiamo metà della linea rossa prendiamo qua da quando ha trafitto come vedi questa linea rossa intanto si sta alzando andiamo a prendere dal meno 50 al meno 60% dove andremo a finire qui il piano bearish potremmo andare a finire a con un meno 50% 22.800 dollari e ce lo marchiamo ce lo marchiamo qua vediamo quindi il 50% è circa qua ok l'abbiamo misurato è intorno a tra 22.800 dollari e un meno 60% che dicevamo sta intorno a 18.400 dollari quindi a occhio e croce ci siamo 18.400 dollari una cosa del genere ok quindi come vedi non siamo neanche a metà del percorso questo è il piano bearish e che cosa si traduce questo considerando che adesso che abbiamo osservato i grafici leggiamo le notizie ok abbiamo letto i grafici prima in che cosa si potrebbe tradurre allora se la fed oggi alza i tassi di interesse si parla di un quarto del 0.25% ma ammetti che alza di più potrebbe essere anche possibile il piano bearish ovvero un all'incirca tra un meno 50 e un meno 60% che ci fa andare e qui inizia a fare scopa anche con questo di video ovvero l'altro video che ti invita a guardare bitcoin e 22.000 dollari sarà il fondo analisi tecnica qua in base anche a Elliot Wave ritracciamento di Fibonacci grosso modo il prezzo tra i 22.000 e i 24.000 dollari è quello che ci suggerisce il grafico quindi e adesso andiamo a guardare gli indicatori che cosa dicono secondo te è possibile una situazione del genere perché qui se consideri stiamo sul due giorni di conseguenza ogni candela sono due giorni potrebbe potrebbe essere un qualcosa che faccia bene anche al mercato ovvero tutti dicono che bitcoin andrà a zero e invece lì in genere quando la paura è estrema non sono consigli finanziari potrebbe essere un'occasione buy della vita è pure vero che dal punto di vista dell'holdling ovvero dice io tengo non vendo mai è un po' un discorso kamikaze piuttosto che fare trading ma ha il suo perché è pure vero che questa differenza tra 22.600 dollari e il prezzo attuale che da ieri che era 38.400 dollari 37.000 dollari è arrivato quasi a 40.000 dollari c'è poca differenza perché se vai indietro nel tempo se ci pensi questo anche per mettere meno angoscia se ci pensi aver comprato qua dove avevo comprato io ok al supporto dico qui rimbalza di nuovo rimbalzato tre volte avevo comprato qua quindi a 8.124 dollari o aver comprato qua intorno ai 4.700 dollari e poi col senno di poi avrei dovuto comprare molto ma molto di più ma se ci pensi tra aver comprato qua e scrivimi un commento sotto qui a 8.000 dollari e qui a 3.800 dollari rispetto ai prezzi attuali che è un per 10 per 11 ok ovvero ha fatto all'incirca se prendiamo a metà adesso stiamo a un più 617% a distanza tuttavia di quanto di esattamente 735 giorni quindi a distanza di due anni ha senso ovvero a distanza di due anni nel 2024 2025 aver comprato a 39.000 dollari o a 22.000 dollari nel caso in cui ci arrivi ha senso ne vale la pena arrovellarsi tanto forse il dollar cost average è la miglior soluzione fammi sapere perché anche io sono indeciso e questo invece è il mio piano bearish se raggiunge questi prezzi stanno certo che non farò mai all in mai fare all in ma sicuramente comprerò in maniera massiva sono pronto a tutti e due i piani piano bullish dollar cost average ho chiuso pure il trade prendendo profitto il trade a breve termine long e piano bearish qua compro nel caso in cui ci arrivi bene che cosa dicono i nostri indicatori di trading se ti va a proposito iscriviti a questo canale in maniera gratuita e pollice all'insù se i contenuti di questo tipo ti fanno piacere vederli così continuerò a farli ok andiamo su infinity giornaliero nostro indicatore riservato made in italy infinity ci segnala ti ripeto infinity quando ci dà candela rossa entra short ok infatti come vedi grosso modo anche qua col big sell aveva predetto qua intorno ai 63.000 dollari aveva predetto il grande short e chi lo ha preso ha fatto un sacco di soldi candela rossa entra short candela verde come puoi vedere vai long addirittura col segnale buy vai long convinto fino alla prossima candela rossa vedi ti fa realizzare in questo caso un 46% candela azzurra candela arancione indecisione oggi la candela sul giornaliero è una candela azzurra ovvero indecisione e quindi potrebbe indicare o un cambio di trend a secondo di come chiude o una continuazione del trend fino a giorni fa le candele come vedi erano un po' indecise vedi è anche oscillato verde entra long e in effetti chiudi qua il sell vedi il 14-11% lo aveva fatto fare in 20 giorni senza stress rosso verde rosso indecisione quindi stai fermo rosso indecisione azzurra non lo sa neanche infiniti ci dice aspetta anche se questa candela se chiude così è una brutta candela per i bull andiamo a vedere che cosa ci dice no questa è una strategia di trading andiamo a vedere che cosa ci dice si hunter sempre sul giornaliero si hunter sul giornaliero non ci dice niente di che ci potrebbe essere un possibile incrocio del hunter del cacciatore sotto ma non ci dice niente di che vediamo sul settimanale cioè ci dice aspetta sul settimanale la curva di hunter del nostro cacciatore sta avendo come vedi una curvatura speriamo che incrocia all'insù ok sul settimanale potrebbe indicarci un rialzo ok interessante cioè sta facendo un movimento tipo questo un movimento passato che abbiamo visto nell'estate di luglio 2022 2021 anzi e poi si sa ha fatto un nuovo all time height andiamo a vedere invece sniper che cosa ci dice sniper sul giornaliero ci dà un pallino bianco quando i pallini sono viola vai short quando i pallini sono bianchi possibile ingresso long e anche l'oscillatore di sniper come vedi verde rosso verde rosso verde stiamo su un possibile bullish questo sul giornaliero vediamo sul tre giorni sniper che cosa ci dice pallino bianco quindi ci potrebbe essere un possibile rialzo anche fino a 48 mila dollari chi lo sa andiamo a vedere sul settimanale sniper se è ancora pallino bianco sniper sul settimanale ci dà pallino bianco e una possibile invenzione di trend perché come vedi l'oscillatore da rosso sta passando arancione e se flasha verde con pallino bianco io personalmente entrerò long perché perché tutte le altre volte quando è flashato da rosso è passato per arancione poi è andato verde come vedi pallino bianco poi alla fine ha fatto anche un più 86 addirittura un più 90% quindi vediamo che cosa fa vediamo teniamo d'occhio sniper sul settimanale soprattutto sul settimanale e sui tre giorni sui tre giorni è verde quindi possibile ingresso long con pallino bianco io personalmente entrerei long in maniera potente se solo se sniper inizia a flasharci verde con l'oscillatore sotto quindi teniamolo d'occhio se ti vai e non vuoi perderti i prossimi aggiornamenti iscriviti gratis a questo canale ACI69 su youtube clicca la campanellina pollice all'insù condividi questo video e poi quando apriremo un paio di posti o un posto nei gruppi riservati compresi tutti gli indicatori riservati e i vari report a cui siamo iscritti sarai il benvenuto e sarai avvertito ultima cosa non meno importante nella descrizione di questo e tutti i miei altri video trovi i link con lo sconto massimo a tutti i miei corsi online prendili adesso non farteli sfuggire sono a pochi spiccioli credo che diano e spero del valore aggiunto dove è condensata tutta la mia esperienza in questi anni nel mondo delle criptovalute e se ancora non sei convinto quando sarai convinto quando vuoi iscriviti qua così vai sul mio blog videoripetizioni.com metti il tuo nome la tua migliore email che leggi clicca qui e ricevi subito tre corsi gratis dove inizierai a far lavorare i soldi per te e a smettere di lavorare per i soldi anche con poco anche con 300 400 dollari tu hai non è che devi spenderli li metti a rendita e inizierai a vedere come funzionano le rendite automatiche e i guadagni automatici nel mondo delle criptovalute nella totale sicurezza con 7400 studenti soddisfatti qua sotto trovi link in descrizione da leo da ac69.trading e videoripetizioni.com ti mando un caro saluto ci vediamo al prossimo video fammi sapere nei commenti cosa ne pensi ciao